He's not brave Bella a tutti ragazzi, Ash qua in questo nuovo video per mostrarvi come funziona la cartuccia di Relay di Animal Crossing Wild World In questo caso io ho scaricato la ROM ed eccola qui Qui abbiamo ADMP Broadcasting Tool Primo, secondo, conteggio, eccetera E qui abbiamo invece il 2DS con Animal Crossing Wild World Innanzitutto bisogna andare nel gioco Anzi, innanzitutto bisogna condividere qua un oggetto Mettiamo italiano, mettiamo casuale E mettiamo qua il Nintendo Nel gioco invece dobbiamo andare nei negozi di Tom Nook O almeno procurarsi una nota bottiglia Questo perché? Servirà poi per la Contact Mode Infatti se uno non lancia una nota bottiglia nel mare Chiederà di effettuarla Compriamo Poi Usciamo da qua Se no non posso buttare via le lettere Ok Creiamo Creiamo La nota bottiglia Scrivi lettera Ah, giusto, devo cancellare Una Scrivi lettera Ciao, ma va bene anche scriverci nulla Tanto Non cambierà nulla Andiamo Verso il mare Libera Libera E ok Salviamo Il gioco Salva Salva Ad esci Salva Ad esci Ok Adesso Andiamo con la Contact Mode Poi abbiamo Nintendo con zero Con zero incontri Insomma Adesso Noi andiamo Contact Mode Inizia Ok Qua abbiamo Count Zero Bene Grazie per essere qui ora Penso che tocca a me Ad avviare La Contact Mode Ti avverto Potrei salvare all'improvviso Va bene Sì Adesso vedremo qua Che il contatore andrà a uno Ecco qua Conteggio uno E questa regola Poi dovrebbe Inviare casualmente Un altro Oggetto Oppure tornando indietro Così Adesso Ritorniamo dentro il gioco E poi possiamo ripetere il procedimento Ovviamente Questo servirà per avere gli oggetti di Super Mario Oppure in generale oggetti al tema dei Nintendo Soprattutto quelli di Super Mario Che in precedenza avevo fatto un video So come ottenerli Però usando Animal Map O forse vi mostravo il pasto Non mi ricordo Questo invece è Un metodo ufficiale Per ottenerli E' l'unico metodo Per averli Se non Senza hack Insomma Senza modifiche Senza edist O roba varia Ok Adesso Andiamo Al mare A vedere Dove è stata Messa Sta nota bottiglia Vediamo un po' Eccola qui Nota bottiglia Se ho sbagliato Abituata a New Leaf Allora B Y Ecco qua Nota bottiglia Da Banda Leggi Gentili e gnoti Le carte hanno parlato Ancora della mistia Scimia Che visita Solo i villaggi Più fuori mano E Lettere simili Sono queste Gentili e gnoti Una strana scimmia Giunta nel mio villaggio E Niente Regalo Apri Regalo Sì Apri Abbiamo Muro dei funghi Muro dei funghi Andiamo A casa A metterlo A posizionarlo Ok Qui Vabbè Un mattone Di quelli Della Nota bottiglia precedente Posizionavo Il muro Attacca il muro Adesso Abbiamo Il muro Dei funghi Vedete Abbiamo qua Il muro Dei funghi Rimettiamo Quello Di prima E Poi Guardo il mio canale E poi Così Questo è tutto Bella